Aspetta. Uno scout reale. È molto lontano da casa. Seguiamolo. E...? Sono da quella parte! Tutti quanti! Lo giuro su Grigor! Eccellente. Procediamo. Io... non capisco! Non mi sono dimostrato leale! È vero che il mio signore stima la lealtà più di qualsiasi cosa. Ma non hai esitato un istante a tradire i tuoi connazionali per denaro. Quella donna... Benedict Harman. Comandante dei servizi segreti di Walud. Se riuscissimo a catturarla... Voi! Voi! Gettate le armi a terra, imperiali! Di mezzo! Togliamoli di mezzo! Meglio delle lucette reggiganti Sono la signora del vento! Stavolta no! Stavolta no! È finita! Stavolta no! Compulenta! Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Il tuo destino è signato! Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Stavolta no! Vai Bello! Dietro di te! 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 ti! ti! di te! 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 ti! 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 di te! ti! 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 ti!